Il corso di formazione che stiamo svolgendo è un corso di formazione per l'accordo Stato-Regioni e per i dirigenti dove va a richiamare tutti quelli che sono gli aspetti legislativi, normativi di sicurezza della funzione del dirigente. Il gruppo di questa giornata e della prossima è abbastanza coeso e diciamo che sono stati già affrontati alcuni argomenti che riguardano un po' quello che è l'aspetto generale della sicurezza e quello che sono le varie funzioni degli aspetti licenziali. Si proseguirà con quello che è l'attività prevista dal Decisitivo 81 in modo che si possa dare a quello che è la funzione del dirigente, a quello che sono gli aspetti legati alla sicurezza, alla salute, sui luoghi di lavoro che loro devono poi vigilare su quello che sono sia i preposti che quelli che sono i lavoratori che sono addetti all'attività lavorativa. Mi chiamo Andrea Rosso, oggi mi trovo qui allo Skill Lab per partecipare a questo corso di formazione per dirigenti ed oggi si tratta il tema della sicurezza sul lavoro, quindi dato che avrò delle deleghe in materia di sicurezza si è pensato a questo corso di formazione che trovo molto interessante per approfondire un tema che è sempre più di attualità. Indubbiamente sono informazioni che in parte già si conoscono ma questa è l'occasione per conoscerle meglio ed approfondirle e quindi sapere ognuno quali sono le proprie responsabilità che cosa deve fare.